Visualizzazione dettagliata delle sezioni Le anteprime delle sezioni, possono essere arricchite mostrando i nomi degli elementi al loro interno. Questa è la visualizzazione del singolo nodo senza nomi. Per attivare la visualizzazione dei nomi, occorre attivare la funzione dal setup stampe. Attivando stampo a nomi nei nodi, sarà possibile impostare anche la loro dimensione. Il nome di ogni elemento sarà inserito automaticamente nella posizione predefinita. Grazie a tutti.